Bella a tutti ragazzi, per tornare il nostro nuovo video il giorno dopo la partita, siamo qui al Nextor di Roma Termini con le magliette da Roma dietro un saluto da Roma e mi ha seguiato per tutto l'anno ieri ne avevo detto eravamo troppo pensati è troppo pensati, mamma mia che emozione questo video è breve però per te breve ma intenso non vorrei che c'era già stato al negozio breve ma intenso però la partita di ieri abbiamo cambiato un po' lo guignone tutti quelli che criticano destro pure noi, ma non criticano però facciamo dubbio sei rifatto un po' dai, sei sbloccato un po' vediamo poi si è sbloccato, non lo mandiamo via più adesso si parla di Mavuba un'altra volta che vuole la Roma però non ho capito che ci fanno, che siamo 50 centronabisti infatti poi io non manderei impressione parere del studio channel che è un po' forte sarà che lei ci troverà più 15 centronabisti però è sempre il giovane dei due si si è certo mo abbiamo visto sabatini e abbiamo visto sabatini e baldistoni che partevano per più vicino vi chiediamo cosa che potrà succedere se è in uscita o un'entrata poi c'è questa gente che ci guarda male tipo mi inviati più Skype le interviste che fanno Skype ci saranno quelli che ti guardano male dietro un po' più piccolo eh sì vabbè comunque è stato baldistoni che stanno eh ma le persone che stanno a prendere Mavuba nooo ma che ci fai durante 100 centronabisti? eh lo so però io ho messo per gli orecchi ho detto che si sta a scioglierpa la situazione però magari però Mavuba alla fine c'è un po' le casse e lui hanno detto che Mavuba ha detto che vuole venire da Roma si ma ho capito c'è sta problema o tu vieni prima e non ti prendi l'inciano o... però vuoi essere quello che lo prendiamo dal chiesa no è che poi tu vado a pensare se da migliostrotta mi hanno sentito male un po' le tue rite eh e poi il rosso è un retrat difetto tanto appena ti ha ancora non c'è stato è una certezza che ieri che ieri stavo ora già con uno avanti ci vedo io per spetta no ho visto appena sia ho visto quello che mi hanno sbutto tutto Mosho mi hanno rompato tutti cioè è vero che in generale non rite mai tu rite poco infatti non è l'indizio però boh è strano il comportamento molto strano vedremo intanto abbiamo quasi finito addirittura infatti addirittura hanno detto che i baratià non voleva fatteci parlare una cosa la presentazione addirittura si si ragazzi hanno sentato lo sport sono del nord quindi ho detto tutto quindi quando tutto è di più basta che scriviti nella Roma quindi ok quindi vediamo tanto queste usci eh si e poi siamo in terzino due di soli questi infami si è fatto la maglia di allenamento russa eh si e non è la più costosa però 50 euro magari la facciamo anche vedere se giriamo se giriamo ma vede la tua no? ma non ce l'ha io non ce l'ha io non ce l'ha a disposizione sembra se ci giriamo ma vai ma vai venite a vedere guardate che maglie ecco 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 qua guardate che robetta così voilà e vai che roba ragazzi eh cose dell'altro mondo ma quella questa è bastata 10 euro in meno questa gialla guardate guardate che robetta guardiamo e rosichiamo vuol dire più più che altro io perché non ho comprato una ecco io non posso una eh di fame che non sei altro no ma prezzi incredibili sono arrivati una sciarpetta 33 euro mentre 35 eh va a piacere qua ci guardano tutti i mari si 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 ormai stanno abituati si ormai stanno abituati non abbiamo ci vergogliamo di niente a meno che non non capita un mezzo emoziale che è un po' più difficile a far video sai a meno che volevo rischiare la vita c'abbiamo qua o il mezzo nepoletano dai ancora peggio ci va direttamente all'ospedale purtroppo questi scimi che stanno sia da noi che da loro purtroppo eh si ora tra poco fra 4 giorni ritorneremo alla nostra cioè Cricigliaro ritorneremo alla sua postazione iniziale iniziale adesso vediamo aspetta ora adesso il 23 ricordiamo il 23 metteremo un link se lo troviamo nella partita di KTN Roma che poi per chi ha la Roma Channel si può vedere per una settimana gratis lo provete nel link si solo per gli altri c'è il link nel streaming nostro che metteremo poi se lo troviamo speriamo di robarlo ma si ma quindi tu a partita di dal gruppo ma tu vuoi sei il 23 sera eh si eh si quindi chiudiamo per questo video questo video breve qua dal next door certo 5 minuti video abbastanza buono eh si perché poi si torneremo tra poco tra poche ore per un altro video il solito serale eh eh si si a oia no no una parte scherzi seriamente dopo la partita dopo le perché vado a fare gioco a pallone verso le 1 di mezzo 8 caricheremo un altro video ecco che non ci eravamo messi ancora da forte ecco perché vi cammini vi vi avremo più sullo specifico per l'udizio di mercato come al solito questo era l'ultimo anticipazione anche sulla partita di ieri certo infatti il video si chiamerà il com'è? dopo open day e dopo vendere al next door un saluto un saluto da Manuel Cicidiano come ha le iscrizioni mi piace sempre iscrizioni sempre 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 forza Roma sempre forza Roma sempre bella riga